Ciao a tutti, per sedurre una donna non fate mettere nella categoria dell'amico o in quella del pretendente. Prima di esaminare questo concetto iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, prima di sedurre, cioè se vogliamo sedurre una donna, dobbiamo evitare che questa ci metta nella categoria dell'amico o ancora peggio, in quella del pretendente. Dobbiamo tenere presente che quando noi entriamo nel campo sensoriale di una persona, cioè iniziamo a interagire con questa persona, in qualche modo veniamo etichettati. E' come se dentro il nostro cervello, quindi anche dentro il cervello della donna con la quale interagiamo, ci siano tanti cassetti con tante etichette e noi, a seconda del modo con cui interagiamo, veniamo messi in un cassetto con un'etichetta sopra. L'etichetta dell'amico e l'etichetta del pretendente sono due cassetti diversi. Perché se vieni messo nell'etichetta dell'amico, non vieni poi preso in considerazione da un punto di vista, diciamo, relazionale, sentimentale, affettivo, diciamo, sentimentale, affettivo, sessuale, non vieni preso in considerazione. O comunque puoi uscire da questo cassetto e andare in un altro. In alcuni casi serve entrare in questo cassetto, ma quando si è già avuto una relazione. Quindi io adesso sto parlando di una persona, di una donna che viene conosciuta ex novo. Quando si è già avuto una relazione per riagganciare, allora può essere utile. Nel cassetto dell'amico, praticamente, la persona ti vedrà in modo, tra virgolette, assessuato, la donna, ti chiederà delle cose, perché agli amici si chiede, e poi magari offrirà delle cose agli amanti, a quelli che si fanno amare. Come si fa a entrare nel cassetto dell'amico? Beh, non generando stimoli di natura erotica. Cioè, ci sono uomini che per approcciare una donna la cercano, fanno, la invitano a uscire, la invitano ad andare in giro. Dai, vieni, oggi c'è da fare questa passeggiata in montagna con il gruppo. Oppure dai, se vuoi venire con questa sera, andiamo in questo locale dove c'è questo, dove c'è quello. Cantano la musica, suonano, fanno, andiamo, che ne so, a raccogliere i funghi assieme, non so. Ti invitano da tante parti, ma poi non ti danno stimoli. Perché non ti danno stimoli? Perché sono inibiti loro, hanno paura, temono il rifiuto e quindi sperano, diciamo così, di ottenere dei segnali che se la donna non ti dà, dopo tre, quattro, cinque, sei volte che tu fai queste uscite qua, lei praticamente, se non era già di suo, per qualche motivo, insomma, se già di suo non era coinvolta fisicamente nei tuoi confronti, vedendo che tu non riesci in nessun modo a stimolarla, ma adesso poi vediamo in che senso stimolarla, lei ti mette nel cassetto dell'amico e inizia a vederti come se fossi assessuato. Quindi ti chiederà, dai, andiamo qua, andiamo là, si farà magari anche, come dire, ti inviterà anche, per chiarità, ma saranno più le cose che ti chiedono che quelle che ti offre, soprattutto non ti offrirà nulla di natura intima, sentimentale, affettiva. E come fa a metterti invece nel cassetto del pretendente? E il pretendente diventa cavalier servente, ancora peggio dell'amico. Il pretendente è colui che invece si manifesta poi in modo plateale, no? Dice, ah, ti vede come donna angelicata, insomma, come donna angelicata, ti osanna, ti porta su un palmo di mano, ti offre cene splendide, romantico, riesce però a inserire qualcosa di più duro, di più forte, perché ti vede come donna angelicata, insomma, a teme, teme questa cosa qua. E allora diventerai il cavaliere servente, cioè ti userà per scoccarti cene, scoccarti uscite, insomma, ma non ti vedrà come maschio alfa, insomma, ti vedrà come maschio, come dire, beta, perché il cavaliere servente viene visto come maschio beta, non sa dare emozioni fondamentalmente. E allora invece come entrare? Non devi dimostrarti né amico né, diciamo, né cavalier servente, ma devi dimostrarti come maschio alfa. Cioè, sì, tu ovviamente fai il cavaliere, la inviti, gli esci, però poi, insomma, vai a fare degli avance, stimoli e emozioni, anche attraverso le parole, soprattutto stimoli e emotività, e ti fai vedere come maschio alfa, deciso, insomma, e vai e fai, ovviamente, fai degli avance, avendo prima dato delle emozioni, avendo prima colto dei segnali, ma tieni presente che il tutto, quindi, devi dare attrazione nella prima fase, poi devi dare anche comfort, cioè saperla ascoltare, la fai parlare delle sue magagne, così un po' di comfort, e poi, dopo che hai dato attrazione comfort, devi chiudere, però, devi chiudere attraverso il bacio. Ti avvicini, insomma, le parli vicino, fino ad arrivare a baciare. Quello deve avvenire abbastanza rapidamente, cioè, comunque, da quando incontro una donna, non oltre le dieci ore, non oltre le dieci ore. Proprio dieci ore è il limite massimo, il limite massimo, per arrivare, da quando la conosce, a fare un approccio. Dieci ore, possono essere due o tre quattro uscite, ma di solito, come dire, si deve fare molto prima, però dieci ore tieni presente che il limite massimo, se no, rientri o in un'altra delle due categorie, o cavalier servente o amico, quindi dieci ore è il limite. Quindi, guarda l'orologio, perché se superi dieci ore, è finita, poi diventa molto più difficile, insomma. Ecco, quindi devi calibrarti in questo modo. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, e seguimi anche sul mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!